Buonasera, bentrovati! Un annuncio velocissimo per ringraziare ovviamente intanto tutti coloro che stanno seguendo questo canale YouTube ormai da diverso tempo, siete sempre di più e per questo vi ringrazio. Ci sono un paio di novità che riguardano questo canale YouTube, la prima è l'attivazione degli abbonamenti. I corsi di Premiere Pro e di After Effects, corsi completi di Premiere Pro, soprattutto sono corsi riservati agli abbonati. Questo vuol dire che non ci sono più, no no, i corsi continuano ad essere presenti su questo canale YouTube ma sono riservati a coloro che si abboneranno mensilmente ad un costo di 3€. In poche parole vi offrite 3 caffè al mese e in cambio potete accedere al corso completo di Premiere Pro che so aver aiutato molte persone a muovere i primi passi nel mondo del montaggio video. Non solo per chi si abbonerà ci saranno anche dei corsi nuovi e pensati appositamente per gli abbonati. Sto preparando un corso di Adobe Audition, un corso base di Photoshop e nuovi corsi di Premiere Pro più semplici e sintetici e come si dice stringati rispetto a quelli che sono attualmente caricati. Se invece volete imparare ad utilizzare Premiere in maniera un po' old school sappiate che tra poco parte il corso a distanza quindi su Skype e su Zoom ci vedremo un paio di volte alla settimana più verosimilmente una volta alla settimana per un paio d'ore e in maniera live e interattiva ecco vedremo come funziona non solo Premiere ma in generale il video making moderno per i social network e tutto ciò che è collegato. Quindi se volete abbonarvi a questo canale YouTube fate un piacere a me e se volete partecipare ai corsi a distanza di Premiere Pro e di After Effects invece inviatemi una mail ad info-fabbiambrosi.it e sarò felicissimo di darvi tutte le informazioni che volete. Per adesso grazie e ci vediamo qui su questo canale YouTube. Un abbraccio. Grazie.